Buon venerdì sera a tutti voi da Marcus, si conclude la decima estrazione del mese, ecco il 90 a Firenze, la classifica riprende il suo corso, andiamo a vedere il quadro estrazionale di questa sera. Quindi arrivato il 90 non arriva in quinta posizione ma arriva il 90 a Firenze, tutto inizia a muoversi, peccato visto il 3, taci che dalmeno 71-17 arriva al 73. Allora come vi dicevo, quindi solo ancora domani sera, poi si concluderanno i giochi per Genova e Palermo con il 3, 17-71 e 30. Quindi ancora domani sera questa condizione, avete visto il numeretto 3, si è ripetuto 3 volte e adesso manca l'appello ancora comunque il 17-71 Genova-Palermo e il 30. Quindi andremo a vedere ancora domani sera cosa succederà, domani nuova classifica integrale del 90, intanto, intanto, manco ci pensavo più, metodo Antonio Longo, 4 novembre. Questa sera se non sbaglio questa condizione era riportata al settimo colpo di gioco, correggetemi adesso non mi ricordo bene. Comunque, 79-33 Roma-Venezia questa sera, cosa va a uscire sulla ruota di Roma, andiamo a vederlo subito, esce, esce, 78-33. Quindi c'è un ambetto secco, mi sembra che ci sono alcuni scontrini che stanno arrivando, vediamo un po', sì, eccoli qua che stanno arrivando, vedete? Non mi sbaglio, quindi Roma-Venezia 33-79, questo è il metodo Longo, e poi mi sembra, sì, ce n'è ancora, guardate che vada l'ambetto, 5 euro in ambetto, 33-79. Complimenti, comunque questi sono i risultati di chi porta avanti una condizione, quindi ve l'ho detto, non serve seguirne 80 condizioni. Chi prende a cuore una condizione se la porta avanti per 5, 6, 7 colpi, non oltre i 9-10 colpi, penso che dovremmo esserci, sui 9 colpi dovrebbe ancora dare la condizione. Comunque, si porta avanti una condizione, come vedete, poi si va avanti. Nel frattempo, nel frattempo si va a formare un'altra condizione, stasera non lo so se c'è qualche condizione nuova, poi la vedremo, quindi si vedrà poi stasera, ognuno di voi andrà a vedere se ci sono le condizioni, ma si era formata una condizione, mi raccomando, quella condizione, guardate bene il calcolo, non è difficile, quindi qualcuno su YouTube ha già risposto, Io ho dato conferma, sì, ok, quello è Lambo, quindi poi vedremo cosa fare, domani intanto facciamo la classifica nuova del 90, e parleremo poi della condizione che c'è, che si è formata. Allora, come vi ripeto, la condizione Genova-Palermo, ancora domani sera, quindi domani sera ancora la condizione 3, 17, 71 e 30, Genova-Palermo, avete visto, di nuovo, di nuovo, il 3, peccato non 71, Comunque, domani sera, ultimo colpo per questa condizione, rivedremo il metodo longo, che è questa, estrazione del 16 novembre, quindi ieri sera, 34, 46, 34, 46, perfetta isotopia fra queste ruote. Questa sera non ha dato risultato, né su tutte, mi sembra niente, quindi questa è una condizione appetitosa da portare avanti, perché appetitosa? Perché qua proprio abbiamo tutti e quattro i numeri in isotopia, quindi questa è una condizione molto, molto forte. Nel frattempo, ve l'ho detto, fatevi bene i calcoli, andate a vedere cos'è, poi domani, con calma, rivedremo questa condizione, va bene? Per il sabato, quindi domani mattina, ci metteremo lì, e faremo il nuovo calcolo, per i nuovi, eh, per i nuovi, e poi, di nuovo, l'ambo secco, ambo secco, ambetto, avete visto cosa è uscito sulla ruota di Roma? Quindi, mi sembra che è uscito proprio il 33,78, ripetiamo, condizione del 4 novembre, e se non sbaglio è dato al settimo colpo, eh? Quindi, se è uscita questa, al settimo colpo, che non sono nemmeno isotopi, figuriamoci, figuriamoci, questa qui, che bella che è, questa sera è stato un primo colpo e non è uscito niente. Quindi, attenzione, al calcolo, mi raccomando, eh, rivedetevi il video che vi ho messo nella community, mi raccomando, quello, il calcolo del 34,12 per Milano, vi ricordate, no? Quindi, attenzione a quelle cose lì. Ci sentiamo domani mattina, per la nuova classifica integrale del 90, che come vi ripeto, questa sera, Firenze, è arrivato proprio nella classifica, rivediamo, guardate qua, avevo detto, vi ricordate, eh? Tutti andavano a Roma, ma rimanevano quelli indietro, guardate, quelli indietro, eccolo qua, quelli indietro, uno, due, e poi tre. Perché prima Roma, poi due volte Roma, adesso Firenze, e adesso domani, nuova classifica, Genova, Milano, Napoli, rimangono le primarie, peccato, avete visto, è uscito su Firenze, però, questa è la classifica, ragazzi. Quindi, quando inizi a girare, va sempre indirizzata su queste quattro ruote. Attenzione alla ruota che metterò domani, perché ho fatto già il confronto, e c'è da scegliere due ruote, però, per fare quelle due ruote, penso proprio che quella, quella che dico io, è quella tosta. C'è la condizione di nuovo che porta il 90 proprio su quella ruota, quindi, vediamo un po', se scegliere una o l'altra. È passato quello con la moto, non ci credo, prima di finire il video, che è quest'ora, no, è loro domani un altro 90, dai. Allora, ci sentiamo domani sera, mi raccomando, chi ha fatto l'ambetto, chi ha proseguito questa condizione, vi ripeto, è normale che, può capitare che qualcuno di voi la può portare avanti, non tutti seguono le stesse condizioni, ma chi l'ha portato avanti ha vinto l'ambetto al settimo colpo, se non sbaglio, quindi, avete visto, le condizioni sono valevole, valevo lì. Ci risentiamo da Marcus, è tutto, buona serata e al prossimo video, domani mattina penso intorno alle 10 e poi rivedremo il tutto. Mandate gli scontrini se avete fatto l'ambetto, scusate, 33.79 su Roma, settimo colpo. Domani mattina, allora, procedimento per quanto riguarda questa condizione, ma che tanti di voi comunque l'hanno già fatta, eh. Lo faccio apposta, perché dovete imparare, cioè è inutile che guardate sempre me. Va bene? Quindi, condizione spettacolare, un colpo, è andata già questa sera, quindi domani secondo colpo. Va bene? E per quanto riguarda il 3.17.71.30, ancora domani sera, è risortito di nuovo il 3. È risortito di nuovo il 3 sulla ruota di Palermo. Guardate, quante volte è sortito il 3. Per quello vi dico, attenzione, tanti di voi mi stanno mondando anche le ambate, eh, perché avete giocato anche le ambate, vedete, 3 Palermo, quindi questa è l'ammata contata. Dai, ci risentiamo domani mattina con più calma, nuova classifica e poi nel dettaglio la condizione di Antonio Longo, vista che c'è tantissima richiesta da parte anche delle signore anziani. Dai, poverina, dai, va bene, vi verrò incontro ancora questa volta, ma proprio sarà l'ultima, eh, ve lo dico. Poi, mi raccomando, però ne va la pena perché quella è una condizione veramente estremamente bella, isotopi. Va bene? Buona serata a tutti. Se avete avuto delle convergenze per rinnovate di Firenze, poi, se avete inserito qualche vostro ambo, qualche vostro abbinamento, lo rivedremo insieme domani mattina. A domani mattina, ciao a tutti, buonanotte.